Salve a tutti, oggi vedremo come bloccare una persona indesiderata Molto semplice, basterà andare su impostazioni Dopodiché entrate in blocco E come vedete la prima opzione vi darà il blocco dell'utente Quindi basterà che inserite il nome dell'utente Cioè l'email o più semplicemente il nome dell'utente che volete bloccare Vi si aprirà, insomma, vi si aprirà la tendina Sceglierete il nome E premete blocca Dopodiché sarà come se l'avete eliminato Non potrete più accedere alla sua pagina E lui non potrà più vedere i vostri contenuti pubblicati su Facebook Quindi per oggi è tutto Grazie e alla prossima